Konnichiwa Ciao a tutti fantacorni e fantacorni benvenuti in questo nuovo video oggi sono qua per fare il video dove ricrevo i miei musicali vecchi me lo avete richiesto veramente in tantissimi quindi ve lo registro prima di iniziare il video volevo dirvi che oggi è uscito da due anni il libro di mia sorella che appunto è una ragazza delle ciliegie e se volete acquistarlo seguitela su instagram si chiama Valmiao e contattatela in direct come volete dire voi e chiedete informazioni del libro lei è molto disponibile ovviamente e lo potete comprare appunto da mia sorella quindi se volete più informazioni chiedetela a lei in direct si chiama Valmiao su instagram 1,2,3 iniziamo subito adesso vi metto il primo musicali che devo ricreare che ho scelto e era veramente pessimo spero di riuscire a farlo meglio perchè questo non si poteva vedere ok ragazzi come avete visto era veramente pessimo quindi cerco di farlo meglio insomma io li faccio a duetto così vediamo bene le differenze i i i i i i i i i vediamo come è venuto sicuramente un po' sono migliorata ovviamente non sono perfetta eh non voglio assolutamente dire però sicuramente prima meglio di prima ci sta dai il secondo musicali che ho scelto è questo è tipo bruttissimo ancora più brutto di quello di prima stiamo proprio andando nel degrado più totale iniziamo vediamo come è venuto vediamo come è venuto il secondo il secondo spero che vada abbastanza bene come il primo ovviamente non sono perfetta ve lo dico però spero che sia migliorato adesso vi metto il terzo musicali e non è malissimo però non è neanche benissimo insomma iniziamo con il terzo musicali se non mi sbaglio poi ho fatto una transizione che allora non piacevo però l'ho voluta fare perchè era più carino quella transizione oddio mi era torciata tutto nei capelli finito vediamo come è venuto non mi piaceva non mi piaceva sinceramente il mio sitale come era prima penso di averlo migliorato almeno su qualche aspetto non proprio perfetto però dai vedo cintino come gli altri come è venuto ok ragazzi adesso vi faccio vedere il quarto anche se io l'ho già preparato però adesso ve lo faccio vedere iniziamo a preso anche questi occhiali per fare delle transizioni 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 io voglio rifarle aspettatevi non lo faccio vedere non lo faccio Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Alla fine ho messo i fiocchi perché i cappelli facevano ombra ed era veramente bruttissimo Grazie a tutti Anderemo a mettere questo altro fiocco, tra l'altro stanno scombinando tutti i capelli, li tocchino al volo Questo qua bianco e poi fucsia Adesso la dobbiamo riprendere da qua Ma l'ho messo bassissimo Anche a voi succede nei musicali? Omm, 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 omm... e l'abbiamo più penuto Secondo me è venuto abbastanza bene anche perché era abbastanza difficile rimanere fermo così e cambiare fiocco Fatemi sapere voi giù nei commenti Secondo me diciamo che sono tutti, nessuno è bocciato, diciamo sono tutti promossi Fatemi sapere voi quale bocciate e quale promuovete Bene ragazzi il video è finito, se vi è piaciuto lasciate tanti 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 like Facciamo scoppiare i vostri telefoni, dovete lasciare tanti like Anche se potete lasciare solo un like dovete condividere questo video ovunque Con tutte le persone che conoscete, con i vostri amici Condividete questo video per farlo avere tante visualizzazioni e per lasciare tanti like Perché ci tengo a questo canale, infatti siamo quasi 40.000 E io sono tipo la persona più felice del mondo, mi voglio tanto 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 bene Mi raccomando seguitemi sui miei social che come sempre lascio giù in info box Commentate e condividete E vi mando un bacio, al prossimo video Sayonara Chao Ciao Ciao Ciугhe Ciao Ciao Ciao